Siamo qui con Elisa Dal Bosco, presidente dell'associazione Maggiordomi. Lei è intervenuta proprio sul tema il Maggiordomo come nuovo assistente virtuale. Che cosa significa? Il Maggiordomo è colui o colei, perché il Maggiordomo è uomo e donna, che regala tempo a chi segue. Può essere un imprenditore, una famiglia, una barca, un elicottero, in qualsiasi luogo. Il Maggiordomo regala tempo alla persona che segue. Il tempo oggi è il vero lusso. I ragazzi che hanno partecipato al seminario sono stati interessati al suo intervento? Come li ha visti? Li ho visti abbastanza interessati, soprattutto quando ho parlato di quello che il Maggiordomo guadagna. Guadagna molto, perché il Maggiordomo è come un manager. È un manager della casa, della barca, dell'elicottero. Quindi guadagna tanto. Diciamo che la leva del prezzo ha fatto molto clamore. Che comunque è un periodo di crisi, quello in cui ci troviamo. Forse il tettore turistico è quello che meno ne risente, però forse la figura di cui lei ci ha parlato è quella che ancora meno sente della crisi. Che messaggio vorrebbe lanciare ai giovani per intraprendere questa carriera? Chi vuole provare può mandarci un curriculum a info-maggiordomi.it, sul nostro sito maggiordomi.it, altrimenti ci sono tutte le informazioni o su tutti i social network. Siamo presenti e mandateci i vostri curricula perché stiamo veramente cercando un Maggiordomo in tutto il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.